La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica. Questo il pensiero cardine di Adriano Olivetti, il celebre imprenditore italiano che riuscì a creare a Ivrea nel secondo dopoguerra italiano un'esperienza di fabbrica unica al mondo. Mercoledì 20 settembre il sito UNESCO di Ivrea è stato oggetto di attenzione da parte di una delegazione di giornalisti della stampa estera interessate ad approfondire il pensiero di Adriano Olivetti visitando l'archivio storico, il visitor center, parte degli uffici, il convento di San Bernardino senza dimenticare il castello di Ivrea e il museo comunale Garda. Ad accogliere alla delegazione sono stati il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore, il sit manager Filippo Ghisi, il presidente dell'associazione archivio storico Gaetano Di Tondo insieme all'archivista Enrico Bandiera e il direttore di Confindustria Canavese Daniele Aibino. Questa è una città che ha, come tutti sappiamo, un passato industriale importante e da qualche anno ha intrapreso un cammino per ricollocarsi in qualche maniera, creare una nuova narrazione. Questo inserimento nel patrimonio UNESCO sicuramente ci ha dato una via, ci ha dato una via da seguire. Il primo periodo è stato dedicato in qualche modo agli adempimenti formali, c'era un piano di gestione da seguire. Oggi è venuto il momento di passare a un secondo piano, essere un po' più operativi. Noi riteniamo di poter dire che Ivrea in qualche modo ha fatto scuola, ha fatto scuola in una serie di settori che vanno dall'architettura industriale. Evidentemente ci troviamo in questo momento in quella che è stata definita la via più bella del mondo dalle Corbusier. Abbiamo fatto scuola nei sistemi di management perché in fondo qui è nato un modo responsabile di fare impresa, un fatto di arrivare a considerare ciò che ci ha insegnato Camillo prima ancora e poi Adriano, il dipendente non soltanto una parte della filiera produttiva ma un essere umano che non esaurisce la sua vita nella catena di montaggio. Quindi a creare proprio un senso di comunità intorno alla fabbrica. In questo posto è nato un nuovo modo di vendere il prodotto attraverso il bello e quindi sono nati dei nuovi sistemi di comunicazione e da qui nascono i negozi olivetti famosi in tutto il mondo da New York sulla Quinta Strada, Venezia e poi ancora. Insomma vogliamo raccogliere questa eredità per tradurla in qualcosa di futuro. Abbiamo scoperto anche una vocazione turistica di questo territorio e la vogliamo sfruttare a pieno ma torno a dire che in questa via in via Iervis deve anche tornare il lavoro e posto che un po' l'innovazione è nel nostro DNA noi stiamo cercando di lavorare per riaccendere i riflettori su Ivrea come polo di innovazione.